signore e signori traders ed investitori buongiorno e benvenuti all'intraday club analisi contesto e premarket mercoledì 6 dicembre anche oggi insieme ad analizzare i principali sottostanti americani per farci trovare pronti al suono della campanella delle 15 e 30 partiamo come sempre con un recap di quella che è stata la seduta di ieri standard and poor sempre scadenze di dicembre lo sarà ancora per un paio di sedute dopo andremo a vederlo in dettaglio 1.25 milioni di scambi e 21 punti e 50 tra minimo e massimo andiamo a vedere assieme seduta piuttosto particolare soprattutto la la prima ora quindi 15 30 16 30 non ci ha dato grandi spazi a livello di operatività il grosso del movimento c'è stato solo dopo l'area 47 50 ci avrebbe dato un potenziale game ma un'operazione veramente sofferta che sarebbe durata un sacco di di tempo da lì il mercato perde un po di vigore torna ai livelli di apertura e dopo essersi stabilizzato nella terra di nessuno all'inizio della fascia serale inizia come è abbastanza comune nelle ultime sedute un bel movimento ribassista che lo porta a chiudere sui minimi di giornata in area 28 abbiamo valutato insieme in diretta ieri con gli amici del trading club e dell'intraday club un sell stop in area 36 e 50 con obiettivo 35 e eventualmente un buy sempre in area 35 con l'obiettivo anche qua di più 6 meno 6 come sempre con le candele da 5 minuti non è apprezzabile ma prendete pure il t future andate a fare il replay entrambe le operazioni hanno dato pieno game quindi bella soddisfazione per tutti coloro che hanno lavorato la sera nasdaq 444 mila scambi 108 punti tra minimo massimo dopo due o tre seduti di sofferenza il nasdaq ieri si è ripreso molto più forte rispetto all'S&P anche se sul finale anch'esso ha perso molto terreno è andato a chiudere a ridosso dei minimi di giornata nonché quelli di apertura in area 6.270 un nasdaq piuttosto nervoso ieri ho provato tradarlo visto che l'S&P non presentava grandi opportunità operative ho provato un long con tutti i margini di sicurezza quindi stando lontano tra i punti della mia gara psicologica dei 6.300 allargando anche il rapporto rischio rendimento più 4 meno 4 perché l'attesa alta volatilità ai noi non è bastato e abbiamo accusato una loss di 250 dollari da lì visto il nervosismo non ho più trovato occasioni piuttosto lampanti per effettuare trades quindi si chiude qua la mia giornata con un segno meno ma accantoniamola che oggi è un altro giorno agenda macroeconomica solo una news che ci interessa alle 14 e 15 già scontata vedremo tra poco come si è comportata e come ogni mercoledì scorte di petrolio alle 16 e 30 perfetto andiamo nello specifico vediamo il nostro S&P come si è comportato durante la seduta asiatica ed europea quindi candele un minuto abbiamo visto ieri chiusura in area 28 parte asiatica le prime tre ore diciamo di in leggero contesto positivo barra neutrale che ha raggiunto e sforato leggermente anche area 31 e 50 cioè area 30 da lì iniziano un po' un calo delle contrattazioni che portano il titolo a diciamo quando sorgeva il sole da noi sull'area psicologica dei 22 e 50 dove ben o male si è stazionato anche il POC quindi la maggior parte degli scambi apre l'europeo primo input leggermente negativo che lo porta fino all'area psicologica dei 20 poi si riprende e diciamo tra un po' di movimenti di dizizzai in un territorio piuttosto incerto ce lo troviamo adesso in pre open anche con il dato delle 14 e 15 che è stato leggermente positivo in area 26 27 dove presumibilmente andrà ad aprire quindi a livello operativo ci troviamo con un titolo appena al di sotto del del prior close però con volumi ben distribuiti sia nella parte bassa che nella parte alta quindi massima attenzione ancora oggi i volumi si sposteranno sempre più su marzo quindi tutti i volumi che verranno rubati alla scadenza di dicembre il nasdaq sembra tendenzialmente un po' più debole attenzioni che oggi non sarà una seduta di facile lettura andiamo a vederla assieme quindi ecco qua le proiezioni per tutti coloro che vorranno tradare una fascia pomeridiana 15 30 16 30 ricordando che sono a scopo didattico da fare solo ed esclusivamente sulla vostra piattaforma simulata allora abbiamo definito uno scenario tendenzialmente neutrale con dei picchi sia da una parte che dall'altra ci aspettiamo una seduta salvo imprevisti di bassa barra media volatilità quindi andiamo a circoscrivere il titolo in 12 punti 50 la prima situazione anche se siamo piuttosto lontani vedremo adesso giustando che parlavamo è andato 27 50 direi un sell in area 32 50 sfruttiamo l'area psicologica anche se dovesse aprire diciamo in area 26 25 50 teniamo comunque il 32 50 e se è qualcosa effettuiamo un buy stop in area 31 con l'obiettivo 32 barra 32 e 25 sarebbe confermata la tendenza positiva e ci aspettiamo dopo i primi 5 minuti un'ulteriore accelerazione quindi ci può stare come come trade in un'ottica ribassista attenzione in questo caso il territorio è un po più insidioso l'area 20 sicuramente tiene perché nella mattinata c'è stata durante l'apertura dell'europeo un bel accumulo volumetrico che sicuramente tornerà a farsi risentire nel nel mentre cioè ovvero dare 27 50 i 20 in cui ci troviamo adesso oggi li possiamo valutare dei sell stop ma il mercato come vi dicevo allo stato attuale ovvero il 14 58 viene difficile definire dei parametri precisi di entrata consideriamo sempre l'allontanamento di dall'area psicologica quindi se buca il 2625 il poco non guardiamoci neanche perché andrà a spostarsi appena i mercati apriranno quindi si può si può valutare un sell stop in area 24 con un obiettivo area 23 però anche in questo caso mi raccomando prestate un po di attenzione perché c'è piuttosto lateralità e quindi non ci aspettiamo un'operazione che sia nell'immediato queste sono un po le caratteristiche di di questa prima ora evitate i primi cinque minuti mi raccomando se qualcosa aspettate anche cinque minuti in più per capire effettivamente il mercato come si sta muovendo l'ho detto tre volte e perché c'è un motivo ben preciso quindi attenzione di tutto questo di tanto altro parleremo ovviamente stasera in diretta in 3d club più 3d club multiday a partire dalle 19 15 ora entro in modalità zen mi preparo per l'apertura dei mercati ricordando che la vita è come uno specchio ti sorride se la guardi sorridendo un saluto da stefano corvi ed e3s di alfa for all ciao